Il mondo del terzo settore è un grande patrimonio del nostro paese, un patrimonio fatto da centinaia di migliaia di volontari che hanno innervato le nostre comunità e che hanno dato vita a una grande ricchezza. Occorreva però a questo punto una legge di riforma che mettesse regole nuove perché il rischio era quello di strumentalizzazione o quello di patologia come il mondo della cooperazione ha vissuto in questi ultimi anni con le false cooperative. Penso che l'azione lunga che il governo ha intrapreso per arrivare a questa legge di riforma che ci ha impegnato per alcuni anni e che ha visto un coinvolgimento forte della cooperazione assegni al paese una buona legge, la migliore legge possibile oggi, che consente di mettere ordine, consente di creare opportunità, consente di favorire il passaggio da forme di volontariato a forme di imprese. È un passaggio evolutivo importante come quella della 381 per la cooperazione. Ha visto anche l'estensione della 381 dei campi di applicazione della cooperativa, oggi la cooperazione non guarda le imprese sociali come un'alternativa, come un concorrente, ma guarda come un modello imprenditoriale su cui integrare l'azione della cooperazione nel sociale, nel welfare per la scrittura di un nuovo welfare per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini. Grazie. 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 Grazie.